Fa un bel salto avanti in classifica il Lecce che vince in casa contro il Napoli, calcio di rigore, Campagnaro su Oliveira, sischietto Bacorvia, è perfetto, setto gol in campionato, non ci arriva De Santis, 1-0 per il Lecce. Azecchi i cambi però Mazzari dentro Zuniga e Mascara, l'assist è di Zuniga, la testa è di Mascara, 1-1 per il Napoli che pareggia con l'ex attaccante del Catania. Succede tutto poi, espulso prima Corvia, espulso Cavani, si inventa un gol meraviglioso, Shevanton, traversa poi la palla entrata, 2-1 per il Lecce che fa un bel passo avanti nella zona resocessione. Grazie a tutti.